Buona sabato 18 dicembre. Giuseppe è un uomo giusto e non vuole dare scandalo relativamente a quello che è accaduto a Maria, che si trova incinta senza che vi sia stata una convivenza tra Giuseppe e Maria e ritiene opportuno ripudiarla in segreto. Ma un angelo visita Giuseppe. È un brano del Vangelo di oggi che ci invita a riflettere profondamente attraverso la rappresentazione della genealogia di Gesù del nostro rapporto con la generatività. L'angelo ricorda che Maria è incinta e che tutto questo è accaduto per opera dello Spirito Santo e che Maria è una vergine perché si è adempiuto quanto sta scritto dal profeta. Una vergine partorirà un figlio e sarà chiamato l'Emmanuele, il Dio con noi. Vedete, in questo tempo largamente scientista, se noi sottoponessimo la domanda agli scienziati come sia possibile, ci risponderebbero che questo è solo un raccontino piuttosto ridicolo, perché la scienza non può comprendere questo evento che contraddice l'aspetto biologico della generatività. In realtà questo invita la scienza stessa a porre mano all'atto della creazione come un semplice passaggio della vita di generazione in generazione per opera della vita stessa. Non siamo noi creatori della vita, questo è il monito che Giuseppe accoglie pienamente, comprende la narrazione che viene fatta dall'angelo, la condivide a fatica perché è decisamente una conoscenza controcorrente rispetto alla morale di allora e alla morale di oggi, alla visione di allora e alla visione di oggi da un punto di vista della conoscenza umana. Ma questo è un invito a porci nella condizione dell'accoglienza della vita come semplici mezzi attraverso i quali la vita stessa verrà celebrata. Noi siamo il tramite che è chiamato attraverso il proprio modo di vivere a celebrare la vita, ad adottarla, a non considerare i figli come una nostra proprietà un possesso. Noi siamo generati e generiamo in una prospettiva di appartenenza a quella dimensione che Maria accoglie, sicuramente con grande turbamento e che ridefinisce in maniera radicale la consapevolezza della generatività. Perché ciò che accade nella vita è il costante ripetersi dell'incarnazione, dell'infinita misericordia di Dio, dell'amore di Dio nei confronti dell'umanità. E quindi noi siamo chiamati ad adottare, a farci sequela di quel passaggio della vita attraverso noi che ci riempie e ci deve riempire di gioia, di titubanza e anche di incomprensione e di liberazione, sì, di liberazione finalmente da quella prospettiva ingannevole che ci illude di poter essere dominatori della vita e di essere generatori della vita. Noi siamo chiamati ad amare e a rispettare la vita attraverso anche questo racconto straordinariamente ricco di prospettive esistenziali ed antropologiche che parla in maniera intensa alla nostra cultura per trasformarla e accogliere il mistero della vita e dell'amore che Gesù testimonia nella sua esistenza. Buona giornata a tutti.